Ma non sorpre... soppressa... Ah, soppressata! Ah, capito... Sì, sì, so cos'è la soppressa... Ah, soppressata! So cos'è, figa! Avevo letto sorpresa, qua io picchio i bambini, gioco a rocket. No, questo è goal. No, ho fatto comunque goal. Gli acquiti con i belli che ti trapano il cervello. Sì, figa, mi fanno scazzare. Io devo fare le competitive qua, ma io volevo riscaldarmi un po', figa, meno male che qua... Io... ma perché sbagli i tasti? Freno, mi giro, faccio le capriole, chiamo mia nonna, mangio la pasta! Io non lo so! Ma non chiamo mia nonna! Ma no! Ma no, ma cosa dice, signor Albino? Ma signor Albino si trattenga! Oh... Slife! Figa, è un po' cretino, però. L'altro era intelligente, questo è cretino. Madonna mia, sono partita proprio con Muda. Cosa fa la Sushi o la Life? Forma Life! Vabbè, doveva andare in mezzo? Live solo acuti. Sì, un giorno la farò ASMR acuti. Bye Flumi, YouTube. Ma che cazzo stai facendo? Vai che gol questo? Madonna, sono fortissime. Francese. La prof fa... Boku, no? Sai che si scrive... Beh, ah, oh, 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 che cazzo si scrive, no? E fa come ne si pronuncia, perché tanti non lo sanno. E si dice Boku. Boku! Bocchi! Ho detto... Sì, ma perché... Chi è che è orgasmato? Ho un po' di raffreddore, non ho orgasmato. È che non respiro quando parlo. Cia! Cia! Vai, vediamo quanto è forte. Sì, la signora... Io mi sto alterando! Guarda che gol. Che gol, figa. Aia, però! Ma cosa fu? Gargamello, figa, ha fatto live, Gargamello. Vada, signor Matt, figa. Cosa fa quello? Si ingroppa il muro. Non ho boost? Non ho boost! Ok. Oh, figa, si è tolto dalle palle. Quale, signor Porcino, è un po' incazzato. Un Porcino è incazzato qua. E guarda che i Porcini... Mi si affre... Cioè... Che sto facendo? Perché sbagli i tasti, figa? No, il signor...